Poole, dove eravate prima? Beh, un po' a destra, un po' a sinistra. Vedi, noi ci muoviamo con le stagioni. Eravamo nella loira. Nella loira? Sì. Ci sono stata una volta. Ma sì? È in viaggio di nozze. Davvero? Due settimane di felicità, due anni d'inferno e fine. Hai avuto figli? Sì, uno. E la madre di Octave? Sai, era una grande pianista. E quando è nato Octave, lei ci ha lasciati. Poi mi sono comprato le api. Deve essere bello. L'impollinazione. Sì. Sì, è delicato. È raffinato. È poesia. È armonia. Equilibrio. E prima delle api? Io sono un filosofo. Uno vero? L'impollinazione. Sì, ho food goddamn. Let's maybe see i mi? Sì. Grazie a tutti.